Ciao Sofia, bentrovata. Ciao, salve. Allora, abbiamo rotto il ghiaccio nella prima puntata, eravate tutti super emozionati ed è stato proprio palpabile, insomma quella, diciamo così, si percepiva tantissimo una vibrazione fatta di emozione unita a panico e anche un pochino di terrore. E quindi, insomma, dici invece qual era il tuo mix, quello vero. Allora, il mio mix, intanto, come è la prima volta di fronte alle telecamere, un po' di emozione ci sta, però ti vuoi vedere tutte le telecamere e tutto quanto, ho detto wow, mi piace, mi piace tanto. C'è il suo gusto, si può fare una cosa positiva. Sai che in realtà questo è un percorso che oltre a darvi quel piacere è naturale che ci sia, anzi è bello che ci sia quell'ebbrezza particolare, è anche un percorso di crescita a livello formativo perché tu dici cosa c'entra questo con la musica? C'entra basta. Sono finiti quei tempi in cui il cantautore, diciamo quello per eccellenza, che era più l'eremita, diciamo così, di questo settore, oggi nemmeno i cantautori possono stare più rinchiusi nelle proprie case. Quindi c'è la conoscenza attraverso vari programmi televisivi come il nostro, ad esempio, ma anche con i canali social. Quindi in realtà la telecamera oggi fa parte proprio del lavoro anche dell'artista, del lavoro del cantante. E quindi ecco perché dico che questo percorso oltre a regalarvi emozioni in un certo senso è un bagaglio vero e proprio che voi acquisite per il vostro futuro. Un futuro insomma che è naturale, io lo so, tu speri di diventare cantante come tu e tutti i tuoi colleghi e io ve lo auguro davvero col cuore. Allora Sofia, però Dream's Highlights in realtà non vuole parlare solo di quello che è accaduto. Dream's Highlights è fatto apposta per farvi conoscere meglio, per far conoscere la Sofia che non è soltanto in quei due minuti di esibizione, ma la Sofia che uno può trovare per strada, che incontra a scuola, perché so che frequenti la scuola ancora, giusto? Quanti anni hai, ricordiamolo? 17 anni. 17 anni, frequenti? Il liceo artistico. Il liceo artistico. E a parte quindi la musica, l'arte fa parte di te a 360 gradi, non soltanto intesa come musicale, arte, giusto? Esatto, esatto. Sì perché mi piace l'arte in tutto l'ondo, sia il disegno, la scultura, la musica, tutti i tipi di arte, quindi... Insomma, sei nata artista, dobbiamo dire a mamma, o credo che lo sappia. Penso che lo sappia. Penso che lo sappia. E so anche che è una grande sostenitrice della tua arte e crede molto in te, in tua sorella, insomma, quindi hai la fortuna di avere una famiglia che ti sostiene, giusto? Assolutamente. Sì, tutta la mia famiglia, super importante per me, mia mamma, mio padre, i mezzi, i miei nonni, tutti quanti. Bene, adesso dobbiamo fare però un po' di chiarezza, perché io l'altra volta ho detto ti senti più italiana o no? Facciamo chiarezza, in realtà Sofì è nata in Italia, giusto? Sì. Raccontaci tu com'è andata. È andata che io sono nata in Italia. Papà italiano. Italo-venezolano. Italo-venezolano. Perché è nato in Venezuela e è cresciuto in Venezuela. Ma da genitori italiani? Ma da genitori italiani, esatto. Bene, e la mamma invece? Tutta venezuelana. Venezuelana. Cento per cento. Ok, quindi poi tornano in Italia e tu nasci in Italia, giusto? Sì. Ok. E da quel momento in poi cosa succede dopo la tua nascita? Quanti anni sei stata in Italia e quanti anni sei andata in Venezuela? Sono stata in Italia fino a un anno e mezzo, poi sono ritornata in Venezuela perché mia mamma voleva ritornare, perché ovviamente c'era tutta la famiglia e c'era mancanza ovviamente quando tenevai un altro paese senti la mancanza della tua famiglia. Esatto. E quindi stavamo bene lì e tutto fino a quando che ovviamente la situazione del paese non si poteva più stare. Non era più sicura. Non era più sicura e ce ne siamo andati prima in Stati Uniti, vicino, si chiama Missouri-St. Louis dove siamo stati per 6-7 mesi e poi siamo ritornati in Italia e quindi diciamo ho sempre cambiato un po' tutto. Io mi sento sia venezuelana sia italiana, tutti e due, perché non posso dire uno o l'altro. Sei un bel mix. Sono un mix, sì, perché queste due culture mi hanno cambiata molto. Secondo me se non sarei andata in Venezuela oppure se non fosse stato tutto così, che secondo me come è successo tutto, è tutto perfetto, non sarei stata quella che sono adesso. Che bello, questo è bellissimo quello che stai dicendo adesso. E' vero che sei metà e metà, anche perché hai vissuto davvero metà e metà da una parte e dall'altra, hai toccato anche l'America. Oggi Sofia, se dovesse scegliere il suo posto ideale per vivere, quale sarebbe? O per realizzare i suoi sogni, quale sarebbe? Io andrei a Londra. A Londra? A Londra, sì. Beh, lì c'è, poi c'è anche un tipo di musica, c'è un studio della musica tutto particolare. Ti manca? Facciamo l'appello a mamma e papà, Sofia andrà a Londra molto presto. Prima ero stata... Ci sono però dei figli dei Dreams, eh? Sì, ci sono stata un... quasi tre settimane fa, ci sono state tre settimane fa. E ti è piaciuto? Sì, per quasi un mese mi è piaciuto tantissimo. Diciamo, mi piace cambiare molto spesso. Dreams! Ed è la volta del cantautore Nicolas da Montesilvano. Da Montesilvano. Da Montesilvano. Nicolas, ricordaci gli anni? Sedici. Sedici anni. Allora, adesso mi viene subito a farti la domanda, perché caro Nicolas, cioè è della serie, come dici, ce l'hai scritto un fronte, ce l'hai scritto qua sul petto, pescara a calcio. Eh sì. Però non giochi a calcio? No, io in realtà gioco a palla a mano. A palla a mano, che è tutt'altro sport, non c'entra niente. Tifo calcio però? Tifo calcio. Tifo pescara? Tifo pescara, sì, però tra le squadre, diciamo, un po' più grandi, tifo Roma. Bravo, quanto sei bravo, 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 Nicolas. Ecco, detto ciò abbiamo svelato, Roma è comunque la mia seconda simpatizzante, prima in Milan, giusto per tenere tutti gli altri informati. Detto ciò, che non si parla di me ma si torna a parlare di Nicolas, questa maglia a chi l'hai rubata, hai detto? Questa maglia l'ho rubata a mio nonno. Al nonno che tifo il pescara. Che tifo pescara. Ecco, ecco perché Nicolas tifo pescara. No, vabbè, anche perché comunque essendo di Montesilvano, che comunque è pescara, tifo pescara. Tifo pescara, giustamente, tifo pescara, la squadra del cuore. Lo sport in realtà non c'entra niente con la tua grande passione, anche se è bene praticare uno sport. La tua grande passione però è il canto. È la musica, diciamo. È il canto autorato. Sì. Perché tu sei venuto a fare il tuo provino, intanto ce l'hai mandato uno online e devo dire ce l'hai veramente conquistati, poi quando sei venuto dal vivo hai confermato la nostra impressione iniziale e ti sei esibito al pianoforte, io da lì ti vedevo così bravo a suonare e ti ho detto Nicolas ma da quanto tempo suoni? Lo vogliamo svelare? Allora io in realtà suono dal primo lockdown però da autoridatta, io non ho mai fatto lezioni di pianoforte E' qui che mi sono sconvolta, capito? Ecco perché suona davvero benissimo, cioè sembra un bambino cresciuto dentro il pianoforte, non sul pianoforte, cioè è nato proprio così però ho scoperto insomma che nella tua famiglia la musica è diciamo parte integrante E' parte integrante da mamma e papà sì però nel senso io non ho mai chiesto aiuto a loro di insegnarmi Come è giusto che sia, come il rapporto padre madre figlio insomma, no, che ha pure mia figlia, si rifiuta cattolicamente di tenermi dentro la sua vita personale Ma in realtà su questo fronte sono anche, posso dire di essere anche molto fortunato nel senso che mio padre pur essendo un insegnante, un professore Non mi ha mai imposto di imparare a suonare uno strumento, tanto meno di imparare a leggere note, solfeggio Io credo che il tuo padre sia una persona molto intelligente perché a volte, non costringendo, perché forse è una parola troppo forte, però magari inculcando troppo questa cosa poi si ottiene magari l'effetto contrario Quindi secondo me da persona molto intelligente ha fatto un ragionamento inverso Dice adesso io non gli parlo di musica, vedrà che si appassiona Anzi gli impongo di non suonare Bravo, bravo, perché funziona così con voi figli, perché sono stata figlia anch'io Ma in realtà fa così, delle volte magari torna la sera e fa no, non suonare Non ti voglio sentire proprio Ma io continuo a suonare per amore E per fargli dispetto Funziona così, funziona così, sono stata figlia anch'io, ecco perché ricordo Comunque, la tua passione è molto bella, il tuo amore per la musica si vede proprio, cioè traspare ogni volta che ti esibisci Però nella prima puntata di Dreams, diciamo che anche se avevi portato una canzone già conosciuta come gli altri, nel senso un vostro cavallo di battaglia Non era proprio la tua comfort zone perché non avevi lo strumento a disposizione, dove tu scarichi molta tensione, vero? Sì, il pianoforte diciamo che non solo, cioè preso solo il pianoforte è un conto, preso solo il canto è un altro insieme È come se fosse la macchina necessaria per farmi uscire dal mondo e andare nel mio mondo e quindi stare senza pensieri Quindi spegnere tutti i miei problemi che ho in realtà Che per quanto possono essere pochi a 16 anni, lo so Bravo, bravo Sono consapevole, però comunque Allora, noi abbiamo fatto una volta un discorso, no? Tu hai scritto un tuo pezzo, che sono sicura che durante questo percorso, in un modo o in un altro, faremo ascoltare anche i nostri telespettatori Se non fosse in Dreams sicuramente sarà affidati di me, ma io credo anche in Dreams E tu hai scritto una canzone per il tuo primo amore, no? Che poi era finito Per la mia prima relazione La tua prima relazione Seria Ci ha tenuto a specificare, seria Ragazzi, sta parlando un ragazzo di 16 anni Vabbè, ma io ne sono consapevole che comunque pur essendo, avendo 16 anni, scusami Non posso ancora attualmente parlare di amore perché chissà quante esperienze ancora farò nel senso No, no, sbagli, sbagli L'amore c'è anche a 16 ma anche prima Lo so, lo so, però io attualmente so che non posso puntare, tipo ok, mi sono fidanzato con lei, adesso mi ci sposo Può essere pure di sì, attenzione, può essere pure che magari Conosco tanti amici che hanno fatto sta fine Anch'io conosco molti miei parenti che magari hanno fatto così Però tutto può succedere Tutto può succedere nella vita Bisogna insomma poi trovare la persona giusta Che non è detto che a 16 anni non si possa trovare Certo, è più difficile Esatto, nel senso c'è una vita davanti Avete veramente una vita davanti anche per fare le vostre esperienze Ma non toglie che magari quella persona è proprio quella che hai trovato a 16 anni Insomma Speriamo Speriamo, dici perché ora va tutto bene Per il momento mi trovo bene, grazie Perfetto, si trova bene adesso però Lo diciamo perché l'abbiamo fatto intuire venerdì in puntata Adesso lo diciamo Che questo nuovo amore Perché quello di prima che ci ha scritto la canzone è finito Poi è arrivato un nuovo amore Sì Quindi già possiamo fare un paragone, no? Tra il primo e il secondo Perché se uno è finito Sì, sì, quando possiamo fare un paragone Non un paragone, nel senso non di bellezza, non di bravura No, un paragone a livello già di sentimento Emotivo Ti senti più coinvolto Quello di prima magari era un'infatuazione Oggi invece secondo me il sentimento è più forte Quindi insomma già hai dei termini di paragone differenti dal primo Sì, comunque nel primo sono tutte cose nuove Nel secondo sono comunque cose nuove Perché comunque sono esperienze con una persona diversa Però comunque sono tra virgolette cose che già sai Quindi sotto un certo punto di vista Le emozioni più forti che provi sono quelle del primo amore Però dopo secondo me Per far sì che anche magari il secondo, il terzo e così via Siano forti e che ogni persona con cui stai ti debba far provare le stesse emozioni Se non le stesse quasi emozioni che hai provato con il primo amore E' saggio, è saggio, è un cantautore, è saggio Vabbè, diciamo questo amore grande di adesso, attuale Per la nostra Chiaretta La nostra Chiara Chiara De Bonis Che è arrivata seconda nella prima puntata Pari merito con Fatima Con Fatima E devo dire la verità, Nicolás Me lo sono tenuta questa cosa Non l'ho detta nemmeno al maestro Mazzucchetti Quando è finita la puntata E si sono spente le telecamere Sono scesi tutti i ragazzi Insomma dai vostri spalti Dalle vostre sedute E tu sei andato da Chiara E gli hai detto Sei stata fenomenale e bravissima Eh sì Te lo sei meritato Ma perché è quello che penso realmente Cioè io penso che tutte le fidanzate Vorrebbero così una dichiarazione d'amore Pensa a me Mazzucchetti non me lo dice mai Sei stata bravissima È la vita che faccio sto lavoro Che devo fare Nicolás Gli devo dare due lezioni Facciamo il contrario Lui ti dà due lezioni di musica E tu gli dà due lezioni di vita Che ne sai Magari può apprendere anche da un ragazzo di 16 anni Due dritte Se si applica Come si dice nel gergo vostro Gli diamo due dritte Se si applica Se si applica È bravo ma non si applica Bravo Nicolás Hai già capito la situazione Che critica Detto ciò Non parliamo più di amore Parliamo Torniamo alla musica Hai scritto un brano Che c'entra però con l'amore Col tuo primo amore Adesso Prima che finisce Dreams Scriviamole un brano a chiaretta Così ce lo fai sentire pure a noi È già in programma Bravo Work in progress Prati 5 È una promessa Lo ascolteremo tutti insieme Se riesco a finirlo Prima che finisce Dreams Sì Per forza È un obbligo È un regalo per Natale Che ci farai Dai Va bene Dreams Altra protagonista Che si è fatta subito notare Con la sua bellissima voce Angela Allora Come è andata Dicci subito Allora Io finché non mi rivedo Anzi non mi risento Soprattutto Non posso dire la mia Quindi Ecco Ti devi ancora risentire A prima sensazione È andata bene Però L'emozione c'era Però C'era l'emozione E poi io sono molto critica Quindi sicuramente Quando mi risentirò Eh mamma mia Non mi piacerò così Angela Ti prego No Ti prego Lo dico A parte che già ce n'hai in casa Due che ti controlleranno Pure le virgole Ma non ti ci mettere pure tu Perché se no poi Siamo troppo cattivelle Con noi stesse E non va bene A parte che ha litigato con Rocco Che ti ha stracciato tutti i pantaloni Guarda La violenza di Rocco Vero Rocco Amore Però almeno me le ha fatte alla moda Te le ha fatte alla moda Allora Bando alle ciance Angela Te l'aspettavi esattamente come è andata? O pensavi fosse peggio o meglio? No Non Io quando in questa occasione Non mi immagino niente Così Non ho aspettative Ecco Quindi No ma dico l'ambiente La sensazione che hai provato Cioè tu pensavi di Di trovare quello O Dici sai sono venuta magari con più spavalderie E poi invece in realtà Mi sono ritrovata immersa in un'emozione pazzesca Che non pensavo Dovessi provare in quel momento Sì sì C'è stata Emozione c'è stata tanta Perché poi si sentiva anche Tutti Eravamo emozionati Quindi non è che Non mi si poteva star vicino Quindi non è che magari Sai certe volte Speri nella Nell'altro Che non Dici Dici Mi sostiene il mio vicino Per rassemperare Michele Michele Capirai Michele c'aveva Passava dal Momento di panico totale Che Lo vedevo Mi giravo Ho detto Mi sviene Si sente male Al momento che sorrideva tanto Io cercavo di fargli le battutine Ogni volta Per tenerlo a rischio Ma Michele mi ha molto preoccupato Devo dire la verità Perché davvero Non so se poi Qualche inquadratura È trappelata anche a casa Cioè io lo vedevo proprio sbiancato E quindi La prossima volta Cambia partner Vicino Perché Non è ancora Adatto A sollevare Gli animi altrui Allora Però almeno È simpatico Quello Quello Siete un gruppo molto bello Devo dire la verità A tutti molto molto bravi Ma tutti con un unico Comun denominatore Davvero avevate questa Si percepiva tantissimo L'emozione Come ho detto anche a Sofia Mi sta anche un po' di panico Ma è naturale Non lo sapevamo E ce l'aspettavamo Quindi non è niente di Stravolgente Ma sono sicura Che Tutto questo Andrà a trasformarsi Pian piano Lentamente In Più dimistichezza E più sicurezza In voi stessi E quindi Bisogna solo aspettare E dare il giusto tempo Al tempo Come si dice A parte questo Voglio sapere Come sta andando In casa Perché adesso Angela Insomma Fra un po' In casa Dici Buoni tutti Che io ho bisogno Del mio momento Con due figli E un marito Non è facile No Assolutamente Però Devo ritagliare I miei spazi Anche la sera Molte volte Per studiare Le canzoni Dopo che ha fatto i piatti Dopo che ha cucinato Che ha messo le bambine a letto E il momento di Angela Spesso la sera La mattina Quando loro vanno a scuola Però La mattina C'è anche bisogno Di pulirla Un po' la casa Insomma Lo dici a me Ecco quindi Dici a me Quindi Si ritagliano Mezz'orette Diciamo Ti capisco Però ci fa molto bene A noi donne Anche dedicarci Alle proprie passioni E quindi io credo Che questi mesi Di dreams Ti diano Quello sprone In più Per imparare Anche una cosa Importante Che è Essenziale Per stare bene Con gli altri Stare bene Con se stessi E si sta bene Con se stessi Quando ci si rende felice A sua volta Nel senso Siamo noi le prime Che dobbiamo rispettarci Parlo in generale Perché anche Alcune volte Da mamma Da moglie Insomma Da compagno Non riesco Sempre a ritagliarmi Spazio per me Invece è importante E forse Dreams È capitato Al momento giusto Per te Per farti capire Che nella vita Non c'è Tutto il resto Ma c'è anche Angela Certo A volte ci si può Sentire anche In colpa Certe volte La donna Perché sai Con questa Con la Diciamo La filosofia Eh lo so Che c'è Sulla donna E No no Guarda Togli la filosofia No la filosofia La mentalità La mentalità Ma a casa mia Quindi Si può sentire in colpa Se si ritaglia un po' di tempo Per se stesse Invece no Invece no Deve essere così Perché Altrimenti poi si è Un po' represse E quindi Poi ci si sfoga Con gli altri In primis Con le figlie Esatto Siccome noi ci dobbiamo sfogare Con la musica E lo dobbiamo fare Anche molto bene Sì Allora Prima canzone Cavallo di battaglia Adesso stai preparando Il secondo brano Qual è il tuo secondo brano Assegnato Rolling in the Deep Rolling in the Deep Di Adelna Cosetta da niente Ti abbiamo voluto bene Vero? Però È una delle mie cantanti Attuali preferite Quindi ci abbiamo Il cazzecano Solo Rolling in the Deep È una delle poche Che non ho Che non ho imparato Ma cioè La conosco Noi siamo bravi in questo Siamo dei fenomeni Dei vencenti Hai capito? Hai capito? Ti vogliamo bene Questo Sa significare Che ti vogliamo bene L'unica consolazione Che ho Che magari Se scorderò Qualche parola In inglese Se ne accorge nessuno No Se ne accorge Michele Michele Se ne accorge E lui E il furbacchione Ci ha cantato In mandarino E chi se ne ha accorto Se ha detto qualcosa Ben altra E invece Lui A noi Ci tiene d'occhio È vero È vero È vero Ti preoccupare La tua esibizione Lo faccio uscire fuori Così Guarda Con me Stai tranquilla Che non mi accorgo Di niente Quindi Puoi stare Poi dovrò Gestire la mimica Perché magari Se sbaglio Dovrò anche Essere brava Non farlo Allora Con te Volevo parlare Anche di un altro argomento Dreams Spesso Non che viene sottovalutato Perché fortunatamente Il nostro pubblico È tantissimo Ci apprezzano Ci vogliono bene Ma non sempre Sanno Tutto il lavoro Che c'è dietro E con te Proprio del fatto Insomma Che sei una mamma Una moglie Che gestisci una casa E tutto quanto Quindi non sei una ragazza Che va a scuola E che fortunatamente Ha anche più tempo libero Per se stessa Dobbiamo dire Che l'impegno È molto grande Perché Per preparare Una canzone O esibizione Voi avete A disposizione Circa 7-8 giorni Da quando vi viene Consegnata la canzone La provate poi Con il maestro Come è andata Con il maestro L'hai provata La canzone Sì sì L'ho provata Che dice Maestro Lindo Che dice Il maestro Lindo Che dice Dice se può fare Lui dice Sempre che va bene No Quindi dovrebbe essere Un po' più Evidentemente Evidentemente Va bene Infatti io qualche volta Li dico Però se c'è qualcosa Che non va Dimmelo Non ti preoccupare Io sono molto puntigliosa Guardo su questo Ti posso garantire Che se ti dice Che va bene Perché va bene Perché il maestro Lindo Non ci appelli sulla lingua Te lo dice Se va male Meglio Pensa poi A che fare anche Con gli ospiti Difidati di me Molto spesso Arrivano dei cantanti Eccelsi Gli amici di Fausto Verdecchia Poverino Insomma E lì devo dire Si deve impegnare tanto Povero maestro Con voi Insomma Gioca facile Perché siete tutti bravissimi Nel vostro canto Quindi Dicevo C'è tanta preparazione Alle spalle C'è tanto lavoro Tanta concentrazione Ecco perché Dreams Non è soltanto Ciò che vedete In televisione Ma è molto altro Compresa L'intervista Che noi facciamo Durante la preparazione La facciamo proprio Nella crossover academy Per far capire Che proprio qui Il fulcro Il centro Ed è Diciamo L'operatività assoluta Si svolge tutta qui Continuiamo La nostra conoscenza Con Giovanni Giovanni Ben ritrovato La prima puntata È andata E devo dire Hai conquistato tutti Con la tua ula d'oro Perché hai vinto La stella d'oro Sei stato il primo Classificato Nella prima puntata E quindi Puoi ritenerti Soddisfatto No? Esatto Ho vinto la prima puntata Bellissima puntata Mi sono divertito molto E abbiamo Fatto un bellissimo brano Con te partirò Spero di continuare Su quest'onda È stato davvero Piacevole Anche Conoscere Gli altri concorrenti Anche altri Generi musicali Davvero bello Dai Allora Prima puntata La canzone Era un cavallo Di battaglia vostro Quindi tu hai scelto Il brano Da portare Nella seconda Ti è stato assegnato Svegliamo subito Cosa ci canterà Nella prossima puntata Di solito Di solito non lo faccio mai Invece Oggi lo sto facendo spesso Ok Nella seconda puntata Mi è stato assegnato Il brano Perdere l'amore Un brano di Massimo Ranieri Un bellissimo brano E vedremo come andrà Piano piano Ti scardiniamo Piano piano Esatto Perché Diciamo Siamo stati anche molto Bravi e generosi Esatto Di solito Di solito Stravolgiamo completamente Invece Con te vogliamo Attuare un passaggio Un pochino più soft Perché La tua impostazione Lirica Si sente Ed è evidente E ci dispiace anche Non metterla in evidenza Mi sono ripetuta Però insomma Avete capito il senso Però È anche vero Che secondo me Tu saresti Molto molto bravo Anche con un genere Più pop Ah sì E appunto Questo brano Che mi avete consigliato Si Dilegua nel pop Esatto Un mix perfetto Di musica leggera Che piano piano Lo riusciremo A collaudare Per la prossima puntata Come è andata Oggi è avuto la prova Col maestro Mazzocchetti Come è andata Benissimo Il maestro Mazzocchetti Comunque Ha le sue tecniche E quindi Mi ha consigliato Alcune cose Da mettere in opera Da mettere in opera Proprio La parola giusta Il termine giusta In opera Allora in realtà Invece volevo chiederti Lo studio televisivo Che sensazione Ti ha dato Onestamente Era la mia prima volta In uno studio televisivo E quando c'è la prima volta C'è sempre un po' di ansia Un po' di timore Nel far bene Però Poi Ci siamo un po' sciolti Anche con la tua partecipazione Con tanti altri Protagonisti Tra i giudici Abbiamo Sciolto un po' il ghiaccio Rotto un po' il ghiaccio E poi abbiamo fatto i nostri brani E poi è andato tutto Nel verso giusto Nel verso giusto Ma era come te l'aspettavi Oppure Hai scoperto un mondo Completamente diverso Nel senso Da casa Si hanno delle sensazioni Poi in realtà Quando Le vivi In prima persona Con le sensazioni Sono diverse Perché da casa Si percepisce in un modo Ad esempio Prima Con la tua collega Con Angela Ho voluto parlare Ai nostri telespettatori Del grande lavoro Che c'è dietro Ad ogni puntata Anche il vostro Grande lavoro Canoro Perché ci sono Le preparazioni Ci sono I tagli dei brani Le tonalità Da azzeccare Le prove Imparare il brano Insomma C'è tutta una serie Di lavoro da fare Per poi portare Il risultato In televisione Sugli schermi Ma Quei due minuti lì Sono preceduti Da tanto tanto lavoro Quindi la sensazione Che si ha a casa È quella di semplicità Ma in realtà Dietro c'è tanto Tanto lavoro E la domanda Che io ti pongo È questa Te l'aspettavi così O da casa Pensavi fosse Più una passeggiata Sinceramente No Non l'aspettavo così Perché comunque In tv Voi telespettatori Vedete un prodotto finito Però tutto quello Che c'è dietro Tra preparazione Studio Base musicale Diciamo Parecchie cose Che devono andare Verso giusto Quando si è in diretta In diretta televisiva Comunque bisogna Andare tutto Alla perfezione Per far sì Che al pubblico Piaccia il nostro prodotto Quello che facciamo Esatto Quindi tu Da ex spettatore Di programmi Pensavi che fosse Più una passeggiata In realtà Adesso hai capito In realtà è abbastanza Tortuoso il cammino Però dai Anche fare L'intervista con me? No Quella no Quella è una passeggiata Dai Dai Quella Io credo di aver Ristaurato già Con ognuno di voi Un feeling particolare Proprio per mettervi A vostro agio E nella prima puntata Proprio ho fatto Un pochino di più La giullare Per sciogliere Quel ghiaccio Che era Entrato in studio In ognuno di voi C'era molta tensione Si vedeva Non solo Andava la mia parte Ma anche chi Cantava prima di me Si 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 sentiva Si tremava in studio Si è vero È vero Avevo quasi paura Che insomma Cadesse Cadesse dagli spalti Invece avete Avete retto bene Devo dire la verità Prima di iniziare Questo percorso Giovanni si è concesso Una bellissima vacanza Adesso entriamo Nel personale Perché Giovanni Ha una fidanzata Giusto? Come si chiama? Dai diciamo Lei si chiama Rossella Rossella Siamo insieme da otto anni e mezzo Mamma mia siete piccoli Da otto anni Cioè Non si sa mai Magari può essere L'amore della mia vita Giovanni sta portando Un buon esempio Eh sì Dopo otto anni e mezzo Dai si Si percepiscono Quelle sensazioni Che sono importanti Per il futuro Quindi il tuo futuro Cosa Cosa prevede? In tutti e due gli ambiti In quello lavorativo In quello Quindi della tua passione E in quello amoroso Quello amoroso Continueremo in questa In questo percorso Quello Aspetta Questo percorso Questo percorso insieme Nel senso Continuare questa relazione Ecco Che si potrà tramutare o no? Sì Sicuramente Sicuramente Si potrà tramutare E poi? E poi ci sarà Quello canoro Che mi auguro Che sia dei migliori Poi Vedremo quello che si farà E allora io Ci si augura sempre il meglio Eh già ti dico Che quando mettono i piedini Qui a Dreams Portiamo così bene Vi staremo per dare Tante altre notizie I nostri ex concorrenti Insomma Si stanno distinguendo In campo nazionale E noi siamo molto orgogliosi Di ognuno di loro E quindi Diciamo che Dreams Porta bene È un buon bigliettino Da visita Dreams Quindi ti auguriamo davvero Ogni bene Però La prossima volta Vogliamo conoscere La tua magnifica consorte Quindi ce la porti E parliamo anche con lei Voglio sentire L'ultima vacanza Che avete fatto In America L'ultimo viaggio È stata a New York Ecco Grande viaggio Tanto desiderato Bello Spero di ritornarci Casomai anche da cantante Bravo 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 Di esibirmi a New York Dove ti piacerebbe esibirti? Senti Dai La do già per scontata Ma In tutti i paesi No 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 Proprio a New York Metropolita? Eh Eh dai Però è bellissima anche la città Quindi In qualsiasi luogo di New York È comunque bello Dreams In compagnia di questa bellissima ragazza Fatima Dai capelli meravigliosi Hai già cambiato look di capelli 3-4 volte Sì guarda Mi piace cambiare ogni tanto Ogni tanto Ogni tanto Allora Fatima Un bel bagaglio Perché già torni a casa con Nella prima puntata Con un argento No? Condiviso con Chiara De Bonis Ma Sempre un argento è Sì Ed essendo la prima puntata E un buon biglietto da visita Anche A livello tuo personale No? Per darti un po' più di fiducia Per farti capire Che stai andando nella strada giusta Sì Sono stata molto contenta Del risultato Perché comunque Ero molto emozionata E penso si sia visto Vabbè Su quello Ve la siete giocati tutti Alla stessa maniera Perché l'emozione era tangibile Su ognuno di voi Poi c'è Chi l'ha Affrontata magari In Scarica totale Sulla canzone Mi concentro questi due minuti Chi invece Nonostante Diciamo così L'impegno nella canzone Sentiva proprio talmente tanto Che si è rigidito un po' E quello ha Ha giocato a sfavore Però Dreams è un percorso Certo E vi permetterà Ad ognuno di voi Di acquisire Sempre più dimestichezza Anche con le telecamere E soprattutto Con il nostro pubblico a casa Che vi vuole conoscere Ecco perché ci sono gli highlights E ci dici Che volete da me E noi vogliamo conoscere Fatima Fatima che va oltre il canto Anche se già sappiamo di te Nella tua presentazione ufficiale Quindi nella primissima puntata Sappiamo alcune cose di te Adesso pian piano con le interviste Che faremo passo dopo passo Vogliamo conoscere un pochino Il tuo mondo Che è quello che dalla telecamera In puntata non riusciamo a vedere Il tuo mondo è fatto Della tua famiglia Magari ci vuoi cominciare A parlare della tua famiglia Ho un madre Ho una madre Ho un padre Meno male Sono lì I figli Guarda Due gatti Una sorella Una sorella E un fratello Mio fratello si chiama Salvatore Più grande Ah a 12 anni Sì Mia sorella si chiama Ilaria Ne ha 28 Quindi tu sei quella di mezzo Ah pecorea nera diciamo La di mezzo Le di mezzo sono quelle più tremende Ed è così anche a casa tua Un pochino Mezzo a mezzo Un pochino No ma abbiamo un bellissimo rapporto Cioè non lo tighiamo mai Dai Ci vogliamo un bene immenso Qualsiasi cosa Possiamo contare l'uno per l'altro E il più piccolino E il più viziatello Da parte anche vostra Sì Perché è l'unico maschietto Mia madre poi l'ha desiderato tantissimo Un maschietto Quindi Sì È coccolato E che cosa pensa Il tuo fratellino dodicenne Appena mi ha visto il tv Ho detto Oddio ma sei tu Cioè è rimasto Stranito Soddisfatto Felice L'ha detto ai suoi amici Le cose Ero molto felice Contento Guarda quando mi ha detto questa frase Mi è tornata in mente Una cosa che è accaduta Tanti tanti anni fa Quando io avevo iniziato A lavorare in televisione E facevo il programma Di Massimo Giletti Sul Rai 1 E quello era un programma in diretta Quindi in realtà Quando io ero in televisione Non ero a casa Capitò in due anni di trasmissione Capitò che Registrammo una puntata Che era del lunedì di Pasqua Per non lavorare il lunedì di Pasqua La registrammo prima Quindi io il lunedì di Pasqua Ero a casa con i miei parenti E il mio nipotino di tre anni A un certo punto Il mio nipotino mi vedeva In televisione E mi vedeva sulla poltrona E questo ragazzino Guardava là E guardava di qua Guardava là E guardava di qua Dice ma questa Come fa? A un certo punto Io vado in bagno Mi alzo e vado in bagno E lui continuava a guardare Mi nascondo E vedo che va verso il televisore E con la testa Pam Va sul televisore E si fa male Oddio Ma non dice niente Torno dal bagno E gli dico Amore tutto bene E lui mi fa Zia Ma non ti fa male Entrare lì dentro Perché lui ci aveva provato E aveva dato una capocciata Oddio Vogliamo avvisare a casa Che siamo dall'altra parte Dall'altra parte Ok Quindi niente capocciate Era Mi è venuto così da sorridere Quando mi hai detto questa cosa Di tuo fratello E mi è tornato in mente Adesso ho raccontato anche un po' di me Nel tuo spazio Ma recuperiamo Assolutamente Quindi allora Tuo fratello ti ha visto Ed è rimasto anche un po' contento Di questa novità Tu come la vivi? Come la vivo? Di appena iniziata Ancora non ci sto capendo È una cosa nuova Ancora devo realizzare Posso dirlo Ancora non ho realizzato del tutto Siamo agli inizi E ci vuole un po' di tempo Allora questa domanda Te la rifarò verso gennaio Sì magari anche verso febbraio Anche verso febbraio Dici Va più tardi fa Ma è verso la fine Verso la fine Fine percorso Va bene Allora la prima puntata Hai cantato un brano Che a te Insomma era congeniale Perché ce l'hai proposto tu Sì Nella seconda puntata Porterai quale brano? Aura Love di Anastasia Siamo stati bravi? Sì mi piace molto Perché quando la canto Sento proprio che Cioè me lo sento dentro Proprio il mio stile Sono solo parole di Noemi È una canzone che mi piace tantissimo Per quanto riguarda il significato Non è comunque una canzone Che canto solitamente Non è il mio stile Non è il mio genere Però mi sono voluta mettere in gioco Perché volevo portare più Un'interpretazione Che si porta sempre Un'interpretazione comunque Nelle esibizioni e tutto Però volevo Dare qualcosa subito A chi guarda Perché le parole insomma Ti avevano un pochino Scossa di più E quindi Certo In quel senso Lei l'hai sentita di più La canzone Sì esatto Senti Detto ciò Oltre a questa bella famiglia Fatima Ha il cuoricino impegnato? Assolutamente no Quindi Partiamo subito Partiamo subito Guardando la telecamera Fatima Come deve essere Il ragazzo ideale per te Sentiamo Allora Sincero Simpatico Ecco Che gioca ai videogiochi Pure Vabbè quello è facile Quello è facile da trovare E poi La dici? Sì di stiperi o di guarda Ma non ho un prototipo esatto Comunque non me l'aveva detto mai nessuno Nessuno? No Che giochi a videogiochi Ti giuro A questa domanda Non me l'ha detto mai nessuno Ambra vorrebbe che invece Non giocasse a videogiochi Vorrebbe che giocasse con lei Ambra vero? Ci sono tanti nuovi giochi Tipi di giochi No no Subito pensate male No Non è Non stavo a parlare di cose scabrose Ambra è una ragazza per bene Giocare nel senso che magari si fa una partita a carte Giocano a pallavolo Giusto? Ambra ci guarda dall'altra parte E dice sì Effettivamente è così Però non ai videogiochi Detto ciò Sei mai stata fidanzata? Sì sì Ho avuto la mia relazione più lunga È stata di due anni e sette mesi Mazza E comunque rimane Tanto per la tua età è tanto Avevo quando l'ho conosciuta Avevo 17 anni Lui 23 Ecco non lo raccontiamo però a Nicolas E a Chiara De Bonis Perché loro sperano che invece sia duratura Quindi non prendete esempio No assolutamente no Ecco no E quindi Sì questo Ma sei alla ricerca o no? Assolutamente sì Cioè non è che Ti piacerebbe avere una persona accanto? Io credo che soprattutto in questo periodo Avere qualcuno che ti dia forze e ti spalleggi Sulla quale andare a piangere Dio ho sbagliato Ho fatto bene Ho fatto male Si è importante Ti rincuora Ti rincuora Allora facciamo una cosa Fatima Sei libera il mercoledì sera? Sì Ok Vieni affidati di me E facciamo un appello Ti dico la verità Già sto lottando con Ambra e con Martina Per trovare dei fidanzati alle mie collaboratrici Adesso mi impegnerò Lo faremo anche con te Ok? Quindi vieni affidati di me E apriamo una nuova rubrica Quella del cercasi il cuore giusto Oddio Tipo una sorta di uomini e donne Pure Aiuto Facciamo pure le esterne Va bene Se ci piace ce lo portiamo avanti Se non ci piace lo rimandiamo a casa Va bene Va bene Quindi allora cari maschietti Se siete interessati a Fatima o a Ambra Potete scriverci Affidati di me Chiocciolareteotto.it Oppure a Dreamstalent Chiocciolareteotto.it Ci scrivete E noi Insomma Organizziamo Alberto dice Ci vengo io A riprendere l'esterna Ci vengo io Va bene A parte ogni scherzo Io ti auguro davvero Di fare questo percorso Con la massima serenità E di godertelo Perché tu hai bisogno Di gioire un po' E di goderti La tua età Ok? Credo che tu ti prenda Troppo sul serio Alcune volte Alla tua età È giusto anche Evadere Ok? Sì Quindi goditela Va bene Me la godrò al massimo In bocca al lupo Crepi Dreams Continuiamo il nostro percorso Conoscitivo Dei concorrenti Di Dreams Con Emanuela Ben ritrovata Grazie C'hai sto sorriso Coinvolgente Emanuela Eri l'unica Che mi ispirava fiducia Tra i concorrenti Perché erano tutti Impanicati E tu avevi questo sorriso Che sicuramente Celava e nascondeva Panico E anche tensione Ma era un tuo modo Proprio di affrontare La situazione E di Insomma Irradiavi Solarità Nello studio Brava Sì Diciamo che A me piace sempre Prendere le cose In maniera positiva Quindi Le affronto sempre Col sorriso E fai bene Fai bene Ascoltami Ho chiesto anche Agli altri tuoi colleghi Come prima puntata E diciamo Come Prima emozione Primo metodo Per sciogliere Il ghiaccio Con questa avventura Di dreams Come è stata Come te l'aspettavi Oppure Sensazioni diverse E anche La tipologia Diversa da quella Che uno guarda a casa No Dici Mazza però Effettivamente Io a casa vedo una cosa Ma dietro Si fa altro Allora Sicuramente Mi ha un po' Lasciato Senza parole Nel senso che Pensavo Che sarei stata Più agitata Appunto come dicevi tu Forse sono stata L'unica Però pensavo Che avrei avuto Un po' Più di agitazione Invece Probabilmente Mi mette più agitazione Un palco Enorme Che Una telecamera Forse perché Si è un po' Anche protetti Non lo so Dallo studio Dal calore Delle persone Che comunque Lavorano E ci aiutano Ad affrontare Questa cosa E poi Sicuramente Vedere tutto Il grande lavoro Che c'è dietro Vedere anche un po' Dietro le quinte La sala regia Un po' Come muovono Tutti i pezzi Per farci vedere Quello che arriva a casa È stato bello Ecco Noi siamo riusciti A creare con questo Staff meraviglioso Di Dreams Di RT8 Perché i nostri collaboratori Sono veramente pazzeschi Danno anima e corpo Ci mettono tanta passione Ma ci mettono anche Tanta loro professionalità E il prodotto poi È un prodotto eccellente Che arriva Nelle case E dei nostri telespettatori Detto ciò Voi adesso fate parte Integrante Di questa famiglia Di questa Big family Televisiva Che vi accompagnerà Perlomeno fino a febbraio Fino a quando ci sarà Questa finale La prima puntata È andata Come ti aspetti Di arrivare Nel finale Allora Intanto è stato bellissimo Anche Iniziare a conoscere Gli altri ragazzi Un po' più da vicino Comunque vedere Anche le loro sensazioni Un po' come la vivevano Quindi sicuramente Mi piacerebbe tantissimo Arrivare alla fine Dove appunto Diventiamo davvero Tanto uniti Perché secondo me Nella musica È anche importante quello Cioè la musica serve Anche a unire Oltre al fatto Che ovviamente è un programma Dove ci sono Cioè chi arriva primo Chi arriva secondo Chi arriva ultimo Però secondo me La fine l'importante È che ci si diverte Ed esserci Perché come dico io Il risultato finale Non è sicuramente gratificante Alzare un trofeo Ma è anche vero Che tutto ciò Che riuscirà A apprendere Da questa esperienza Il primo classificato Sarà identica e precisa All'ultimo classificato Guarda forse sarà Un po' l'età Perché magari gli altri Sono un po' più giovani Io magari sto più Nel gruppo delle più Diciamo che sei Rientrata Rientrata Tu sei rientrata bene C'è chi ti bate C'è Angela Che aveva il piedino Mezzo dentro E mezzo fuori Però posso dire Sicuramente Che alla fine Secondo me È come tutto Nella vita Dove molte volte È più importante Il viaggio Che dove si arriva Il viaggio Ovviamente anche Con chi lo fai E come ti ci porta Però penso che L'esperienza bella Alla fine sia il viaggio Assolutamente Sì E ti posso garantire Questo ve lo metto Proprio per iscritto Che alla fine Creerete un gruppo Di amicizia Che proseguirà Anche a telecamere spente E questa è forse La vittoria più grande Che Dreams Riuscirà a dare Ad ognuno di voi Proprio perché Condividere la propria passione Con altri Che sanno Ciò che tu stai provando E sanno Qual è l'importanza Che tu dai A quel momento Perché la vivono Loro stessi È qualcosa Di unico No? Sì Parlate Come si dice Si parla la stessa lingua È un po' una magia Dai È vero È verissimo Adesso Emanuela Come tutti gli altri concorrenti Io voglio scoprire Qualcosina più di te Intanto La tua famiglia Com'è composta? Allora Io La mia famiglia È composta Da mia madre Poi ho mia nonna Che è minorenne A 94 anni Quindi Ha fatto Come si chiama nonna? La maggior età Si chiama Lina Nonna Lina Un bacione grande Esatto È una quercetta Nonna Lina Perché per noi Le querce sono da 100 in su Nonna Lina Devi ancora Faticare un po' Ti manca un po' Quindi sei una quercetta Per noi Però Complimenti a te E complimenti a nonna Lina E poi è una cosa meravigliosa Avere ancora i nonni Sì esatto Insomma E poi c'è il mio compagno Noi viviamo vicino A mia madre A mia nonna Quindi Quindi tu abiti con il tuo compagno Vivi già con il tuo compagno Sì Noi conviviamo da un po' Da quanto? Da quando avevamo 19 anni Quindi Facendo i calcoli Più o meno 14 anni Hai capito? Sono 14 anni Esatto Quindi già hai vinto Vedi? Già hai vinto per la pazienza Brava Brava Esatto Quello è poco ma sicuro Brava Brava Senti allora Dreams porta bene In vari campi Soprattutto nel campo della musica Come ho detto Lo ripeterò Voi mi dite Fedele Però facci sti nomi Piano piano arriveranno Tanti ragazzi che hanno partecipato a Dreams Si stanno distinguendo Nel campo nazionale E questo a noi ci inorgoglisce E soprattutto ci fa capire Che stiamo facendo un buon lavoro Ma porta anche bene A livello di cuore Vedessi mai che arriviamo a febbraio Con una proposta di matrimonio qua Che dopo 14 anni ci vuole Come si chiama il tuo fidanzato? Danilo Danilo Senti un po' Allora Danilo dopo 14 anni qua dobbiamo quagliare E' vero che dice che cosa cambia Perché già viviamo insieme Cambia la forma Poi il risultato è quello Ma la forma cambia Danilo Quindi facciamoci un pensierino Noi ti aiutiamo con le telecamere Se vuoi siamo qui Anche fino Guarda Già vedo che esce Ambra Da dietro le quinte Ambra è pronta Ambra Ambra queste cose Per lei queste cose sono Ambra vieni qua Vieni qua Ambra Vieni 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 No perché è giusto dirlo Il nostro produttore esecutivo Pensavo era già in gioielleria lei No Questa ci va in formo Questa ci va a nozze Su questi argomenti Perché poi ci crea Delle situazioni pazzesche Anche per fidati di me Ho pensato parlerò con Danilo Ecco Attenzione Attenzione L'ho vista che si aggirava là dietro Alla parola fidanzato Quattordici anni Quattordici anni Quindi preparatevi Insomma Danilo Povero te Povero te Ci penso io Ci pensa Ambra Grazie Ambra E allora Manuela A parte questo Dreams Oltre a farti crescere Professionalmente E anche a livello tecnico Come abbiamo detto Ti aiuterà anche a livello sociale A condividere questa tua passione Ma sono sicura anche Che il farsi vedere in televisione Dai nostri tanti telespettatori In un certo senso Cambierà anche il tuo assetto di vita quotidiano So che tu lavori Sei una professionista Sì esatto Ecco quindi poi sarai la professionista Manuela quella che sta a rete 8 Così ti diranno no Perché ci vanno spiccioli spiccioli qua Tu sei quella che sta a rete 8 Ma io ti ho visto da qualche parte Ti ho visto in televisione Eri tu? Sì Preparati Sarà sempre peggio Però è anche gratificante Quindi vuol dire Che da casa insomma Ci guardano in tantissimi E apprezzano il nostro prodotto Siai orgogliosa del tuo percorso E poi insomma Chi vivrà vedrà Soprattutto con Danilo Vediamo Grazie Emanuela Grazie a voi Siamo tornati con un'altra concorrente Di cui io insomma Mi stavo preparando psicologicamente Anche lei dall'altra parte Che aspettava il suo turno Dice E' peggio della seduta del dentista Il problema è che con lei non ci vuole Il trapato ci vuole la tenaglia Per tirargli fuori le parole Ma io sono pronta Cara Chiara Guarnieri Attenzione Io non mollo Sono un osso duro E ce la farò Sono riuscita negli anni A scardinare Riccardo Crisante Cioè Non è che ci sono proprio riuscita Alla grande Però Insomma qualcosina L'abbiamo migliorato E adesso farò lo stesso percorso con te Gli occhi azzurri Sono gli stessi L'emozione è la stessa Allora Chiaretta Com'è andata la tua prima esibizione a Dreams? A parte i quattro passi Che hai fatto In modalità svenimento Dall'ascesa Della seduta Fino alla X Dell'esibizione È stato abbastanza emozionante Sicuramente Perché comunque È una cosa nuova Quanto male mi avrai detto In quel momento No vabbè male no Mi ha detto che me l'ha fatto fare Mannaggia Sì più o meno quelli Erano i pensieri Però No alla fine è stato Carino come cosa Mi piace Non te l'aspettavi Che era così Sì Cioè pensavo fosse una cosa più Tranquilla Invece Una volta che ti trovi là È impattante Sì Perché parliamo a livello Professionistico E quindi è diverso No Tra Di una cosa fatta girata in casa Un po' da dilettanti Qui Li parliamo veramente Con Uno staff Con una rete Insomma Una cosa più importante E forse Ti sei resa conto Soltanto In quei quattro passi Di panico Che ho visto Esatto Sì perché tutto Il tempo prima C'ero tranquillissima Poi ero Chiara No Chiara Tranquillissima Non ci crede nessuno Tranquillissima per il modo di dire Ecco Il tuo modo di dire Vogliamo sapere qual è Qual è Qual è Questo modo di dire Che comunque Sicuramente non ero Tanto agitata come poi Lo ero Quando mi sono trovata Là davanti Con le luci Però Però l'esibizione è andata bene Sì Sì Ti sei piaciuta Ti sei piaciuta E quindi insomma Hai avuto anche Degli ottimi Riscontri Da parte dei giudici Quindi Ti puoi ritenere fortunata È andata bene Poi ho un fratello E una sorella Io sono la più grande Tu sei la più grande Quindi la responsabilità maggiore Sì E gli altri due Come si chiamano E quanti anni hanno Mio fratello Si chiama Francesco E ha 19 anni E mia sorella Mentre si chiama Cate Caterina E ha 9 anni 9 anni Piccolina Lei Sì E che dice Della sua sorellona Che sta in televisione Beh Non lo so Non ci ho ancora capito niente No no Cioè non ancora ci parlo Proprio bene Con mia sorella Però Vabbè vedrai Secondo me si appassionerà Alla trasmissione E ti chiederà di venire Anche lei una volta A vederci La invitiamo Anzi come si chiama Tua sorella Caterina Caterina Ti invitiamo Alla puntata speciale Di Natale Sa cantare anche lei Caterina Davvero Mi piace Allora devi venire Assolutamente Ti facciamo fare Una bella canzoncina Anche a te A Natale Che è dedicata A tutti i bambini A tutti i ragazzi Insomma più piccolini Ok A tal proposito Vi ricordo Che il 25 dicembre Dalle 15 in poi Sul rete 8 La puntata speciale Di fidati di me Come ogni anno Sarà coronata Da tanti bellissimi bambini Tante belle esibizioni Tante risate Il nostro babbo natale Che a occhio e croce Avete capito Chi lo può fare Nel nostro gruppo E anche tanta solidarietà Quindi mi raccomando Sintonizzatevi tutti E trascorreremo Un pomeriggio fantastico Come anche gli altri anni Quindi detto ciò Abbiamo invitato Caterina Ufficialmente Ufficialmente Perché voglio scoprire Nella famiglia Guarnieri Se tu sei la più timida O se c'è chi ti batte No Penso di essere io la più timida Porti eh Detieni tu lo scettro Te lo tieni stretto Secondo me sì Va bene Allora tanti concorrenti in questa edizione Siete tredici E tanti ragazzi che tu non conoscevi Come ti sembrano? All'apparenza sembrano tutti Bastanza simpatici All'apparenza Voi li devo conoscere bene Vabbè perché non li conosco effettivamente bene Però sembrano tutti simpatici Molto socievoli Noi ti auguriamo davvero di fare un bellissimo percorso E di arrivare in conclusione Con tanta consapevolezza di te stessa Ma soprattutto con tanti sorrisi Perché Dreams ti vuole regalare emozioni solo belle Quindi mi raccomando affrontiamola alla grande È andata bene? Sì Sono stata promossa? Sì L'accendiamo? Va bene L'accendiamo La tenaglia e il trapano possiamo portarli via Chiara Guarnieri Continuiamo il nostro percorso con Aurora Allora tesoro Intanto sono felice Che sei riuscita a superare lo scoglio più grande Perché tu forse più di tutti gli altri Avevi questa paura immensa della telecamera E io sono contenta Che hai affrontato Diciamo questo scoglio grandissimo per te L'hai affrontato lasciandoti guidare Hai capito che ti puoi fidare Hai capito la situazione E vedrai che puntata dopo puntata Andrà sempre sempre meglio Questo secondo me È un percorso che soprattutto a te Più di tutti gli altri Farà molto bene Perché Non soltanto a livello tecnico Perché tu sei una ragazza molto studiosa Studi canto da tanti anni E non hai mai mollato Quindi Stai molto sul pezzo Hai capito che per la tua passione È come una palestra Quando vai ad allenare il fisico La voce va allenata Giusto? Esatto Quindi hai capito che non bisogna mai mollare Perché altrimenti Sappiamo bene che I cordi vocali sono un muscolo E vanno sempre tenute In forte allenamento Per non perdere mai Quell'elasticità E soprattutto quella tecnica Che si acquisisce negli anni E soprattutto attraverso lo studio A parte questo È una cosa che già avevi Ti mancava la fiducia in te stessa Ma soprattutto ti mancava Il rompere il ghiaccio E affidarti E lo hai fatto Esatto Per me Tu nella prima puntata Hai vinto Perché ti giuro Mi aspettavo quasi Il mutismo totale Da te E invece L'hai affrontata benissimo Questo è un complimento Che io ti volevo fare Grazie Grazie mille E spero che tu l'hai vissuta Nella stessa maniera Assolutamente sì Mi sono trovata benissimo E è stato un momento Molto importante per me E sono molto contenta di questo Io sono felice Perché poi ti ho visto col sorriso Il maestro Mazzocchetti Ti ha confortato Aiutandoti E standoti vicino anche È naturale Hai cantato tu poi alla fine Però lui ti stava vicino Perché credeva nelle tue capacità E ci ha visto bene Insomma è stato molto bravo con te E tu Mi piace proprio il fatto Che hai trovato questo gruppo Vero di bravi ragazzi Che non ti hanno assolutamente Messo più ansia di quella Che già avevi Ma allo stesso tempo Tutto lo staff di Rete8 Ti ha aiutata a superare questo scoglio Sì sì Infatti ringrazio tutti quanti Te in primis Perché mi sento molto a mio agio E sono molto contenta di questo Sono felice Sono felice perché poi Quando noi arriveremo a febbraio Il premio del Insomma così Della disinvoltura sarà tuo Ok Questo è poco ma sicuro Perché hai vinto forse La battaglia più grande Che la timidezza interiore Che è proprio quella Che tu hai dentro di te E anche Il bisogno di credere di più In se stessi Che a volte la vita Ti crea Anche senza volerlo A volte siamo noi Che ci facciamo troppe Trip mentali E ci mettiamo noi stessi E ci mettiamo noi stessi Delle ansie addosso Che non esistono in realtà E questo è un percorso psicologico A circolo chiuso Perché non trova mai La via di uscita E quando si riesce a trovare Quel piccolo spiraglio Per venirne fuori È una grande vittoria Io credo che sarà Proprio il tuo caso E sono felice Di poterlo vivere Insieme a te Grazie A parte questo Adesso noi vogliamo conoscere Aurora Nel personale Ok Io conosco la tua mamma Perché ti accompagna sempre È una grande sostenitrice E forse la mamma Più di te Voleva che tu facessi Questo percorso Perché sapeva Che poteva esserti di aiuto Sì È stata quella Che mi ha spronata Per prima Insieme a mio padre Perché voleva che io Crescessi Proprio sotto Quest'ambito Quindi Hai fratelli Hai sorelle Aurora Due sorelle Due sorelle Due sorelle grandi Sono più grandi di te Sono più grandi di me Quanti anni hanno Le tue sorelle Una 37 e l'altra 35 Come si chiamano? Deborah e Selenia Deborah e Selenia Sono le tue sostenitrici Certo Assolutamente Stanno in casa Sono sposate No sono sposate Sono sposate Hanno una loro vita Abbiamo un bellissimo rapporto E tu sei la piccolina di casa Sei arrivata dopo tanti anni Sì Eh E mamma in un certo senso Non ha mai smesso Di avere un cucciolino in casa Assolutamente Eh E quindi è fortunata È fortunata la tua mamma Sì Allora Aurora Attualmente stai studiando Sì Ripercorriamo un po' la tua vita personale Stai studiando? Studio scienze umane Faccio il terzo superiore Il terzo superiore Qual è il tuo progetto futuro? Sicuramente studiare Il mio sogno è quello di studiare giurisprudenza E sicuramente continuare con il canto Brava Non smettere mai di cantare Assolutamente no Anche se dici con la legge che c'entra il canto C'entra C'entra Perché poi ti conosci pure le leggi Per Salutiamo il nostro avvocato Leopoldo Lombardi Che è l'avvocato di Dreams Di X Factor E anche Della nostra crossover academy E quindi sappiamo bene Che bisogna essere molto informati sulle leggi Che poi riguardano il canto Quindi fai bene a fare tutti e due i percorsi Ma l'avvocato si presume anche Che abbia pure una bella faccia tosta Che abbia una bella parlantina E Dreams, vedi? Il canto questa volta aiuta l'altro E Dreams può aiutarti Perché attraverso questo percorso Ti puoi sciogliere E puoi acquisire più personalità di mistichezza In te stessa Assolutamente sì È impegnato il cuoricino di Aurora? Come? Eh no, Aurora No, no Qua siamo in confessione Aurora Non ci sente nessuno Dimmela all'orecchio No, no, no No Non proprio Diciamo che potrebbe Aleggia Ma non c'è Esatto Chi vivrà vedrà Quindi noi questa domanda a Aurora Le la faremo ogni settimana Per vedere l'evoluzione Dell'andamento Ok? La mamma non sapeva niente? Gliel'abbiamo detto adesso Oh ci sta, eh Ci sta L'età c'è È giusta Poi magari Che ne so Dentro a Dreams Trovi qualcosa Qualche Qualche ragazzo che ti piace Mario sta cercando, eh Michele non lo so Ma Mario c'è Mario in cerca, eh Mario in cerca Allora Aurora Prima puntata è andata Come vedi Aurora Nell'ultima puntata? Sicuramente Un'Aurora diversa Più disinvolta Meno Ansiosa Preoccupata Però Già dalla prima volta Dalle selezioni Alla prima puntata Alla prima intervista Ho già visto dei miglioramenti Brava Sono contentissima di questo Guarda Quando parli così Mi fai veramente felice Sono contenta io per te Davvero 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 Ti auguro di vivere con serenità E di Prendere tutto ciò Che di bello Questa esperienza Possa Regalarti Te lo meriti Sei proprio una brava ragazza Grazie mille Cara Josy Ben trovata Grazie Allora Abbiamo già parlato Con gran parte Del cast Di Dreams Della nuova edizione Sì E diciamo Le domande Più o meno Sono sempre le stesse Ma perché? Perché dobbiamo conoscervi Nel profondo E tu sei una delle più Grandicelle No? E quindi Hai già una tua vita Personale Già strutturata Però vogliamo conoscere Un po' Com'è strutturata Raccontaci un po' Della tua famiglia Sì Allora Io sono sposata Da sei anni Come ho già detto Precedentemente E abito a Chieti E da 12 anni Che ho aperto Una mia attività Che si occupa Prevalentemente Dei Dei Bambini E nella mia famiglia C'è Composta da Mia mamma Mio padre E c'è mia sorella Che è più grande di me Quindi io sono Diciamo La piccolina Di casa Una piccolina di casa Sua sorella come si chiama? Maria E ha 40 anni Maria Oppure una nipotina Wow Sì 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 Che ti fa la zia Brava Quanti anni ha la tua nipotina? Sette anni Sette anni e si chiama? Stefania Maria Stefania Ciao Stefania Un bacione grande Te lo manda pure la zia Mi raccomando Vota sempre la zia Vai su Instagram della mamma E metti sempre il cuoricino Infatti per quello Poi mi sono anche raccomandata Un'altra Diciamo All'altra mia nipotina Che è Marianna Che è più grande Ha 14 anni E quindi anche lei Ho detto mi raccomando Vota la zia È fatto bene È fatto bene Mi raccomando Adesso che ci state sentendo Votate 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 Perché questo voto È anche molto importante È un punto in più Da sommare insieme A quello dei giudici E quindi non è poco Non è poco Allora Giusy Prima puntata anche per te Superata Sì Superata anche molto bene Sì È stata carica di emozioni Di adrenalina anche Ed è andata bene Insomma mi sono stata contenta Della mia Della canzone Di come l'ho affrontata Davanti Insomma dei giudici E davanti al mio gruppo Insomma di compagni di viaggio Chi ti ha dato a te il voto palese? Flavio 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 Come stai? È stato bravo? Sì Non sei e mezzo Sei e mezzo Devo dire la verità È stato bravo Tutti e tre i miei giudici Della prima puntata Sono stati un po' tiratelli Con tutti Si sono mantenuti bassi E poi gli ho chiesto Ma perché siete stati così bassi? Mi ho detto Federica ma è la prima puntata Perché non possiamo Adesso elargire Dieci Nove Come facevamo Nelle ultime puntate Con i senior Erano più generosi Capito? Invece Qui sono arrivati Tutti i cattivelli Tutti strutturati Mamma non te preoccupa Che piano piano Te lo metto in riga Quel Niccolò Cantagallo Che mi è venuto Tutto a quel ritmo Te lo aggiusto Io non ti preoccupare A parte ogni scherzo Perché loro fanno Il loro mestiere Lo fanno anche molto bene Abbiamo la fortuna Di avere questo Entourage Che gira Che veicola Attraverso la nostra Trasmissione E sono tutti E sono tutti i grandi professionisti In un contesto In un contesto simile Come quello di Dreams Detto ciò Questo percorso Oltre Come ripeto Di continuo Oltre a farvi crescere Professionalmente Vi regalerà anche Di mistichezza Con una telecamera Che non è poco Tu dici Magari non ne farò Un uso eccessivo Nella mia vita personale Ma mai dire mai Perché ti ritroverai Magari un giorno A dover cantare E a dover spiegare Cosa canti Perché sei lì Perché i cantanti Oggi anche durante I concerti Di due tre ore Dialogano molto Con il pubblico E sono abituati Ad interagire Con le telecamere Quindi Diciamo che è un binomio Perfetto Dreams Per acquisire Dimestichezza A tutto campo Sì Infatti ecco Rapportarsi anche Con una telecamera In televisione Diciamo che Da tanto Forma tantissime Aiuta anche a crescere Anche ad avere Ad acquistare Più sicurezza E più Ti dà la forza Di credere più in te stessa Brava E' una cosa che Molte volte Non è scontato Perché ci vuole Tempo Per Per avere tempo E anche Insomma Tanta forza Per credere in se stessi Ne abbiamo parlato Proprio con Aurora Perché il suo Diciamo Il suo Handicap Più grande Era proprio Quella della sicurezza In se stessa E quindi Dreams è il percorso Giusto Per ritrovare E per scoprire Invece che Dentro ognuno di noi C'è una forza Che magari Non sapevamo Di avere E che invece Riusciremo A tirare fuori Grazie magari All'aiuto Di tutto ciò Che ci circonda In quel momento Che può essere La telecamera Che può essere Un operatore Che può essere Un tecnico Insomma Anche uno stesso giudice No? È vero Sì Infatti Tante volte Io penso Che ci si confronta Anche con la realtà Con il mondo televisivo Con il mondo della musica Con grandi cantanti E quindi ecco Ci si tende A sottovalutare Invece secondo me In ognuno di noi Anche nel nostro gruppo C'è un piccolo fiore Che alla fine Di questa trasmissione Deve Deve sbocciare Con l'aiuto Insomma Di giudici E con l'aiuto Dei nostri coach Deve Deve sbocciare Questo fiore Hai detto bene C'è un fiore Che sta sbocciando Ed è bellissimo Sia nel campo musicale Che nell'ambito televisivo Che è partita Con la prima edizione Di Dreams Che è Angela Che adesso È la mia co-conduttrice Comunque lei Fa la mia co-conduttrice Ma in realtà Il suo sogno È quello di sfondare Nel campo della musica E pian piano Sta intraprendendo Questo percorso professionale Ma Angela È uno di quegli esempi Che io faccio sempre Perché lei Da un voto Molto negativo Di una giudice Che gli diede Durante il suo percorso Invece di abbattersi Lei tirò fuori Una forza unica E proprio da quel voto negativo Angela fece il suo switch A livello televisivo E io dico sempre Peccato che quel voto negativo È arrivato a metà del percorso Se fosse arrivato prima Avrebbe sicuramente fatto Quel salto Molte puntate Prima di quello che è avvenuto Ma Lei è proprio l'esempio giusto Di come affrontare Quel tipo di critica E di prenderne La forza di quella critica E non la negatività E quindi io vi auguro davvero Di imparare anche questo Perché A volte dai no Si tira fuori qualcosa di buono Viceversa Dai sì Lascia il tempo che trova Un sì facile E meno di aiuto Rispetto a una critica Una critica Più difficile Quindi Vi auguro davvero Di percepire al meglio Tutto ciò che i nostri professionisti Insomma Vi diranno Puntata dopo puntata Allora Prossima gara Tra poco Tornerai in studio Con una nuova canzone Quale ti abbiamo assegnato Non voglio mica la luna Di Fiordaliso Da subito L'ho iniziata Insomma A provare Perché trovo che è una canzone Bellissima Di una canzone storica Del nostro Di una forza annata Sì 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 E molto carica Molto carica Quindi Quella sarà La canzone giusta Per far tirare fuori a Giussi Proprio le unghie Tutto Tutta la tua grinta Che hai E quindi sicuramente Questa canzone ti aiuterà E Un tuo Non l'ho chiesto a nessuno Lo chiedo a te Un tuo preferito Non ti dico Meno preferito Un tuo preferito Una tua preferita All'interno del gruppo Perché così a caldo Nel senso È naturale Che non vi conoscete Ancora bene Sì 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 Per esempio Giovanni L'ho insomma Da subito apprezzato Perché un po' di anni Ho studiato anche Musica lirica Musica classica E quindi da subito Come ho sentito la sua canzone Mi ha ricordato Insomma Queste E quindi hai trovato un feeling Ho trovato un feeling Con Giovanni Con Giovanni Sì musicale Con Giovanni Complimenti Tanto fra poco diventerete tutti super amici E super È vero Coesi Per affrontare noi Poi sarà una lotta Una lotta Tra le due parti Una lotta buona Positiva Sicuramente Grazie Giussi Grazie Grazie a te Come direbbe Michele Finquan Una gabbia dei matti Esatto Ho detto Finquan Matti Matti Che lui ci parla insomma Giapponese Cinese Mandarino Insomma ci parla Quello che è Che ci ha cantato pure Mandarino Se voi l'avete capito Bene Io non ho capito una parola Comunque bravo Michele Bravo Perché ci ha portato a conoscere A parte adesso Gli scherzi Ti devo dire Veramente bravo Perché hai avuto il coraggio Nella prima puntata Di portare una canzone Non conosciuta da noi italiani Anche se molto famosa Nella parte asiatica Del nostro globo In mandarino Quindi nemmeno nella tua lingua Esatto È stata davvero una grande sfida Perché comunque Ho dovuto anche imparare Il testo a memoria Ricordare Insomma Come Il testo scombaciava Insieme alla base Strumentale Il ritmo è anche Leggermente diverso Perché a volte va più veloce A volte va più lento Perché Il modo di esprimersi Anche nelle loro canzoni È un po' più diverso Quindi è stata Proprio una vera e propria sfida E mi è piaciuto Il fatto che Ho potuto condividerla Con tutti In maniera Per la prima volta In maniera inedita In Italia Portare un esperimento Del genere In tv Hai fatto bene Anche se si dice Come darsi la zappa Sui piedi La prima puntata Esatto Perché voi sapete Che non è che noi siamo Così tanto bravi Bravi Buoni Buoni Bravi sì Ma buoni poco Nel senso che Non diamo sempre L'occasione Di portare un cavallo Di battaglia Lì tu avevi l'occasione Insieme a tuoi colleghi Di portare una canzone A voi più congeniale Tu invece hai voluto Sfidare te stesso Con una canzone particolare Dove ci hai dovuto Veramente mettere Molto impegno E tanto studio sopra Ti faccio Un mio applauso personale Perché è stato Un ottimo risultato E abbiamo potuto Ascoltare la tua voce Che è dolcissima Tra parentesi Cioè uno a vederti Pure oggi Che porti sta maglietta Con sto toro rosso seduto Uno te vede E ti dice Ma questo C'è molto dolce Bravo Michele Infatti Me lo dico In realtà me lo dico Un po' tutti D'altronde Pratico pure atti Marziali cinesi Quindi come dicevi tu State a Coz No a Buschi No Io? Io? No no Come avevi detto Tu avevi detto Tu avevi detto L'altra volta infatti Michele Michele no no C'è una televisione No no ovvio Guarda Ambra come se la ride Ambra guarda che poi Squizzagli a te Se mi si presenta In realtà Me l'hanno pure detto Infatti volevo pure Ringraziare Il mio maestro Pierluigi Mi ha detto Che la mia voce è particolare Perché è sia dolce Però anche un po' roca Cioè ha una sfumatura Molto particolare In effetti sì Cioè Diciamo un po' come Lo yin e lo yang Mi piace esplorare un po' Varie Insomma Varie Diciamo varie parti di me Quindi posso Cioè ci sta la parte Quella più tenace C'è quella parte più dolce Quindi ogni settimana Appunto Porterò appunto Delle canzoni Che saranno Una diversa dell'altra Un po' come il mio carattere Estroverso Coraggioso Colorato Cioè avete capito Che so io Che soggetto Entrando nel mondo Di Michele Cioè non è il contrario Capito Sta gestendo lui La situazione E io mi lascio gestire Perché questo ragazzo Veramente È un'esplosione Di gioia Serenità E allegria Grazie Bravo Michele Grazie Mi fa veramente molto piacere E tu Non so se te ne sei accorto Già t'ho preso De Mira Figlio mio Perché io ti prenderò Come capo espriatorio Per ogni cosa Va bene? Va benissimo Va bene Sei pronto? Mi sono nato pronto Nato pronto A parte questo Conosciamo meglio Michele Anche se tu già Ci hai detto parte Del tuo carattere L'hai fatto anche molto bene Però conosciamo meglio Invece La famiglia di Michele Com'è composta La tua famiglia? Sentiamo Allora Noi praticamente siamo Noi quattro Noi quattro chi? Mamma? Papà? Michele? E mio fratello minore Francesco Anche tuo fratello si chiama Francesco? Qua tutti Francesco si chiamano Esatto I fratelli minori si chiamano Francesco Perché ho detto noi quattro? Perché come avevo già anticipato Durante l'anteprima Noi praticamente siamo dei lucani Proprio Da un paesino piccolissimo Che si chiama Lo dico Visitato è bellissimo C'è un castello del 1300 Delle chiese bellissime Si chiama Laurenzana Senti poi viene a fare pure la trasmissione L'altra con me Te mando Vuoi vedere che io ti mando a fare E noi siamo qua in Abruzzo da 25 anni Allora io ti mando insieme a Ambra Porreca Ok Ci vai insieme ad Ambra A scoprire i borghi bellissimi abruzzesi E tu ci racconti tutte le particolarità E Ambra E ti dice cosa devi fare E cosa non devi fare E tu ci racconti L'Italia è fatta proprio da piccole Proprio io lo dico io che faccio l'interpre Tradutto l'Italia è bella Proprio perché è fatta da piccole Grandi realtà Perché Cioè Non è per forza che uno deve recarsi In una metropoli O in una città L'Italia Quella genuina Quella tradizionale Dove appunto vengono anche i miei genitori I veri usi I veri costumi E quella dei borghi Quella degli usi e costumi Poi io amo la cultura Esatto Esatto E poi noi abbiamo la grande fortuna Caro Michele Di vivere in una delle regioni Concedete Non è per patriottismo Ma è davvero una delle regioni più belle d'Italia Perché abbiamo a disposizione tutto Mare, montagna A due passi A due passi L'uno dall'altra E la cosa bella È che l'Abruzzese Come dice il detto È forte È gentile E quindi sa dare ospitalità E allo stesso tempo Sa gestire Le proprie Diciamo Il proprio patrimonio Atmosferico Atmosferico Naturale Naturale E culturale Che abbiamo Quindi Siamo fortunati No? Siamo fortunati Infatti per questo Mi piace molto stare qui Perché Praticamente Ogni ambiente È come se fosse Uno specchio Un quadro Nella zona in cui abito io Che è Montesilvano Un po' più in campagna Per esempio Io apro la finestra E vedo la maiella di fronte Cioè io non ho bisogno Di quadri in casa Cioè io vedo lontanissimo Di tutto la silhouette Quella raccontata da D'Annunzio Ed è questo appunto La bella addormentata La bella addormentata appunto E te la vedi tutta Eh sì È bravo E hai ragione tu Quando dici Non ci metto il quadro Ce l'ho così naturale Che ce lo metto a fare Infatti se scatto una foto La metto su Instagram È ovvio Che è proprio Cioè dico Non mi serve dipingere La natura fa per sé Fa da sola Bravo Bravo Michele È anche romantico Michele A proposito di romanticismo Vogliamo sapere Proprio nel personale di Michele Se il cuoricino è impegnato Oppure no Perché noi qua dobbiamo Sai come si dice Dobbiamo sfriculiare Non so se lo sai questo termine Tu che parli 27.000 lingue Sfriculiare significa Andare a curiosare A prendere un giro Ma in maniera simpatica No 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 Non è prendere in giro Divertirsi Nemmeno È curiosare Curiosare Nella vita altru Quindi andiamo a sfriculiare Nella tua vita Raccontaci un po' Sto cuoricino È impegnato oppure no Ragazzi È incredibile ma vero Ma sono single È incredibile ma vero Ragazzi Allora Parte Il Michele Dei Quindi mi raccomando A tutte le nostre Telespettatrici Se siete interessate A questo bel ragazzo Vivace e simpatico Fatecelo sapere Che Ambra Subito se segna Prende carte Esatto Ambra Il mio numero è tra noi Ambra Poi darà i numeri Dispenserà i numeri Quindi è aperto anche A nuove esperienze D'amore Giusto? Sì Siamo pronti ad accogliere Un amore Michele Sì io sono pronti ad accogliere Tutto così A cantare e poi cantare Canti pure In mandarino A difendela Difendi Lo posso portare in tutte le parti Del mondo Perché sono una guida turistica Quindi donne Più di così Cioè Più di così ma che volete Donne È arrivato l'agrodino È arrivato Michelino Ragazzi È arrivato Michelino Mi raccomando Michè Daglie tutta Affrontiamo questa Questa avventura Nel migliore del mondo Con gioia E serenità E tanto divertimento Perché la prossima settimana Voglio veramente Stupire tutti Che canzone ci canterai? Voglio portare i Coldplay Una canzone che mi ha sempre commosso Ed è Viva la Vida Che è proprio Proprio come l'album La rappresentazione È proprio un affresco Questa canzone Racconta proprio Una storia Di un sovrano Quindi Mi piacciono questi testi Con queste melodie Con questi riflessivi Eccetera Però anche Però si può anche Magari nelle prossime settimane Portare qualcosa di Di inglese Spagnolo Ma Michele lo so io che porti Nelle prossime settimane E poi decidi tutto te Noi cambiamo Vedremo 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 La vita è così Mi raccomando Segnate questo Dreamstalent Chiocciolarete8.it Oppure Affidati di me Chiocciolarete8.it Se volete Noi creiamo Le esterne Insieme ad Ambra Con Michele Così troveremo Anche la tua anima gemella Vedessi mai che sto Dreamste fa Due regali Ma speriamo Infatti Ben venga Ben venga Grazie Michele Grazie Ci siamo divisi Il secondo posto Nella prima puntata Insieme a Fatima Ma Chiara È uscita fuori da subito Ed era quello che io volevo Chiaretta per te Com'è andata? È andata bene Sono soddisfatta Di com'è andata Sì sì Meglio Meglio dei junior Sì Quello sicuramente Mamma mia Mamma mia Quanto abbiamo sudato Eppure I ragazzi Insomma Più piccoli Di solito Affrontano Con più spensieratezza Tu però Eri molto ibrida Io infatti Te lo dicevo Dicevo Io Vorrei tanto Che tu facessi Un'esperienza Con consapevolezza Perché sapevo Insomma Tutto quello Che potevi dare E già nella prima puntata Hai saputo dimostrare Il tuo valore canoro Io sono molto orgogliosa Di te Davvero Non tanto per i voti Perché per me Siete stati bravi Tutti quanti E per come L'hai affrontata E per come Hai rotto subito Il ghiaccio È vero che Rispetto ad altri Avevi avuto già Padronanza Dello studio televisivo Ma Dreams Regular È completamente diverso Perché con i junior Avevi mamma Avevi papà Avevi tutti i tuoi amici Eravate tutti seduti per terra Quindi insomma Era un clima Un po' Diciamo Non meno professionale Meno pesante Adesso invece Sta toccando con mano Tutto ciò che concerne Insomma Un programma Canoro A livello professionistico Quindi Sono contenta di questo Ma Cara Chiara Lo volevate tenere nascosto Ma non ci siete riusciti Ridi Ridi Tanto è venuto Prima di te E già Gli ho fatto il terzo grado L'abbiamo già svelato E quindi Possiamo dire Che l'altra metà Del cuore di Nicholas Eccola qui La nostra Chiara De Bonis Che Ci ha strappato Una promessa Perché lui Aveva scritto Una canzone Per la storia Finita Con la sua ex E ci ha detto Adesso ce ne fai Una fresca fresca Per il nuovo amore Giusto Chi ha? Sì giusto Dal cantautore Ce l'aspettiamo Voglio dire Che stiamo a fare qua? Perde tempo? Eh no Te l'aspetti? Sì Senti E gli ho fatto un complimento Adesso però voglio capire Da te Come lo hai percepito Quando è finita la puntata E si sono spente le telecamere Siete scesi dagli spalti Io ero proprio davanti a voi Ma voi non mi avete notato Perché c'erano altri ragazzi Che stavano veicolando Nel nostro passaggio Nicola si ha detto Sei stata bravissima Te lo sei meritato Sì Ed è stato molto bello Sappi che non tutti i maschi Fanno così Quindi Già ritieni di fortunata E lui ha detto Era quello che pensavo Tu come l'hai percepito Questo messaggio Così pieno d'amore? Beh diciamo Che Lui intanto Mi appoggia sempre Quando Ogni volta quando canto Magari se sbaglio qualcosa Me lo fa notare E quindi Per questa volta Cioè io so che Quello che mi dice È davvero come la pensa Quindi ogni volta che Ti fidi molto di lui Sì E quindi sono contenta Ogni volta che mi dice Che è andata bene Sì Che è andata bene Senti forse questa esperienza Viverla con accanto a Nicola Ti dà più coraggio? Sì Eh? Sì Ti senti più sicura? Più spalleggiata Tra virgolette Questo è un messaggio Che stiamo dando Mamma e papà Quindi c'eravate voi In se sentiva spalleggiata Mamma Te volevo di sta cosa Meglio Nicola Vabbè perché Nicola Sta proprio seduto vicino a te Eh sì Senti ma come la vedi Con queste altre ragazze belle Che stanno dentro Adria Sono tutte belle ragazze E dici oh Ocio Nicola State buono Seduto qua Eh sì Eh? Mi raccomando Mi raccomando Ma c'è capito E invece poi Io ho detto Dai almeno stiamo insieme Ci divertiamo E quindi E facciamo questa esperienza Che ci finisce magari a legare No? Perché comunque condividete Tutte e due La grande passione per il canto Sì Ma avete mai pensato Di fare una canzone insieme O lui mi ha pensato Di scrivere una canzone Che potete duettare Veramente Io Ho già provato A scrivere delle canzoni Diciamo che Sono un po' in difficoltà E quindi Avevamo deciso Di scriverne Una insieme Una insieme E probabilmente Inizieremo a scriverla Vedessi mai Che arriviamo A fine Dreams Qui che la portiamo In finalona Questa canzone Che dici? E si speriamo Con lui ho tirato Una promessa Che entro dicembre Ci deve fare fuori La canzone tua Dedicata a te Ok Quindi magari Con te Mi sbilancio Un po' di più Nel tempo E la faremo Prima di febbraio Ci mettiamo sotto A prepararla Che dici? Va bene Allora La prima puntata è andata Cosa ti aspetti Dall'ultima puntata? Intendi Tipo di sicurezza Di tutto Di tutto Cioè La prima è andata E quindi questa esperienza Della prima Che tu già puoi fare Il termine di paragone Con gli junior Cosa ti aspetti? Chiara Quando finirà questo percorso Avrà preso di più Dalla prima esperienza Secondo te? Sicuramente sì È proprio un'altra dimensione Adesso Anche perché il livello è molto alto E quindi ti puoi misurare Con tanti ragazzi Che sono molto molto bravi E quindi anche al tuo livello Quindi insomma È più difficile Sì Però anche più stimolante Sì È vero Senti ma tu sei piccina piccina Hai già il cuoricino impegnato Pensa che ci sta Michele Che ancora non la trova Noi abbiamo lanciato l'appello Vuoi dare un consiglio a Michele A livello di cuore? Che gli possiamo dire? A Michele? Beh sicuramente Che deve essere Gentile Quello lo è Lui ha detto che la può sia difendere La può portare in giro per il mondo Perché parla tutte le lingue E in più ha detto Che gli può anche dedicare una canzone E allora Ce l'ha tutte Quindi Michele State tranquillo Che arriverà prima o poi Deve trovare solo quella giusta Senti invece mamma e papà Che dicono? Che non possono più stare in studio a piangere Eh sì Ogni volta mi chiedo Dai com'è andata? Che non possiamo stare lì Dove piangono adesso? A casa? Eh beh per forza Tu gliela fai una ripresa La prossima volta Me lo fai vedere? Va bene Quando ti esibisci Fa una ripresa a mamma e papà Ok Nascosto Va bene Quando c'è il tuo pezzo Così dopo io lo mando in onda Va bene Va bene Ok Ti aspetto allora Va bene Fiduciosa nel risultato Grazie Chiara Bocca al lupo Grazie mille Concludiamo la nostra carrellata Con Simonetta Simonetta Anche tu Molto solare Sempre sorridente Sì Sì E mi piace il tuo approccio Come ho detto a una tua collega A Emanuela Sempre con questo sorriso Spiacicato in faccia Che ti dà un attimo Cioè ti fa capire insomma Che si è vivi anche dietro gli spalti Nel senso perché stavano tutti così Anche Michele Anche Michele Che ride sempre A un certo punto Dicevo Questo mi sviene Perché aveva pure sbiancato A un certo punto Invece ha retto E invece tu e Emanuela Non mi davate proprio pensiero Perché vi vedevo proprio felici Proprio di essere lì Sì è vero Lo ero Lo ero perché mi piaceva il contesto Mi stavo In realtà ero Sì agitata Vero verissimo Però contenta Quindi Poi io in realtà affronto La vita sempre un po' così Hai capito Anche quando non mi sorride Io risorrido Fai benissimo Fai benissimo Perché poi magari Ti risorride a sua volta Esatto Sono convinta Gli diamo un input Alla vita Quindi Io l'affronto così Tu torna così Torna a chiedi Allora tu in realtà Come Emanuela Devi ringraziare Il maestro Luca Di Carlo Che ha puntato su di voi Dice No Federica Le devi ascoltare Sono bravissime Sono bravissime Ed è vero Perché poi avete superato Il provino col maestro Mazzocchetti E siete nel cast ufficiale D'altronde Luca Ha già lavorato E lavora ancora con noi Quindi Sa di cosa parliamo E lui dice Sono due ragazze Molto molto brave È vero E mi piace il fatto Che potete avere Dreams Come Diciamo Trampolino Per affrontare Questo mondo canoro Che avete messo Da parte entrambe Perché lavorate Tutte e due Siete già due professioniste E quindi Diciamo La musica È stata un po' Accantonata Dai processi naturali Della vita Dalle esigenze quotidiane Della vita Vero? Vero Vero Avrei voluto Coltivarla Come dici tu Molto di più Purtroppo Purtroppo Il lavoro Gli studi Il lavoro Esperienze anche agonistiche Che ho avuto Ti dicevo anche l'altra volta Nel mondo della danza Quindi La concentrazione appunto Su altre cose Mi hanno portato Diciamo A tralasciarne delle altre Purtroppo Il canto è rientrata Tra queste Ma adesso Che Diciamo Sono più stabile Dal punto di vista lavorativo Sono un'adulta Diciamo Ho potuto Riconcentrarmi Su quello che mi piace Dreams ha tutti gli effetti È un sogno Che ritorna È un sogno Che però Si fa ad occhi aperti Non si fa quando si dorme Ma si affronta quotidianamente Perché come Ho già detto Con alcuni tuoi colleghi Dreams è un percorso Non fatto soltanto Del venerdì sera In puntata Ma un percorso Che impegna Mentalmente tutti i giorni Ma anche fisicamente Ha bisogno di prove Di studi È di tempo Da dedicare Appunto All'esibizione Che poi si andrà a fare Che tutti da casa vedranno Anche lo stare qui In un certo senso Perché so che stai qui Però prima Sei già passata Sotto le grinfie del maestro Eh sì E quindi avete già provato La nuova canzone Avete già Diciamo così Individuato la tonalità giusta Ad affrontare E i tagli della canzone Perché Ricordiamo ai nostri telespettatori Che tutte le canzoni Dei nostri concorrenti Sono le basi Sono tagliate a due minuti Quindi se spesso Voi canticchiate una canzone Non vi ritrovate con il testo E perché siamo noi Che gliel'abbiamo tagliata E quindi riduciamo le canzoni Che canonicamente Sono dai tre minuti e mezzo O quattro In due minuti Per esigenze televisive E quindi in due minuti Si concentra tutta la vostra esibizione Dovete dare il massimo Sì È vero? È vero È verissimo Infatti mi sto molto impegnando Anche con il maestro Siamo stati a lavorarci molto Su questa canzone Che trovo interessante Che canzone è? Che ti abbiamo dato? Che non mi ricordo Sono un po' smemorina La mia canzone è bellissima Di Anna Lisa Wow È una hit Comunemente conosciuta da tutti Anche se ti confesso Che io era Forse la terza Quarta volta Che la sentivo Perché in realtà Prediligo A livello di ascolto Magari altri generi musicali Quindi questa è stata Un'interessante scoperta Cimentarmi in un In un bel brano pop Di una cantante Che insomma Attualmente Sta uscendo fuori Dai confini italiani E sta veramente Riscuotendo Tanto successo Anche all'estero Siamo felici di questo Perché siamo tutti patrioti Quindi quando un italiano Si fa riconoscere all'estero E viene apprezzato Per noi È sempre Un momento di banto Volevo conoscere Un pochino di più Simonetta nel personale La tua famiglia Come è composta? Allora Mamma e papà È una sorella Più grande Più piccola Più piccola Che lavora Ha quattro anni meno di me Lei ha la passione Per il canto? Meramente per diletto Proprio Le piace cantare così Ma è timida È molto timida Ma in casa c'è qualcuno Che ama il canto Che vi ha trasmesso questa? Sì La nonna La nonna La nonna Mia nonna Maria Che ha sempre avuto la passione Per il canto Cantava Se ricordo bene Anche in un coro Quando era ragazza Quindi Da lei È nonna Maria La tua prima sostenitrice? Era Era Quindi lo faccio anche per lei Non c'è più Quindi ti ascolterà sicuramente Da una postazione speciale E illuminerà il tuo percorso di dreams Assolutamente Poi nel sogno una stella ci sta sempre bene Nonna Maria Quindi è appropriata Grazie Simonetta La prossima volta Indaghiamo sul cuoricino di Simonetta Passo dopo passo Passo dopo passo Grazie Grazie